Ciao a tutte, benvenute in un mio nuovo video, oggi è il 14 febbraio, buon San Valentino a tutte. Allora, oggi vi voglio mostrare un acquisto erbolario. Prima di iniziare però vi ricordo se vi fa piacere di sostenermi iscrivendovi, lasciandomi un like e attivando anche la campanella per ricevere le notifiche e essere avvertite ogni volta che esce un mio nuovo video. Vi ricordo che sono presente anche su Instagram e su TikTok, questo è il nome dei miei due profili. Iniziamo subito. Come vi stavo dicendo, sono stata all'erbolario perché ho visto ieri il video di Rita, Rita Forer, che prima era Rita64, ciao Rita se mi guardi, e ha fatto vedere un profumo dell'erbolario, all'argan. Sono andata a sentirlo, il prezzo, anche se è un profumo come hai detto tu Rita, che c'è dal 2013, è aumentato di prezzo. Il 50 ml mi sembra che venga intorno ai 24 euro, me ne sono fatta spruzzare un po' qui per sentirlo durante la giornata. Hai ragione, è ottimo, la persistenza, come hai detto tu, non è elevata. Vi mostro comunque l'acquisto che ho fatto, adesso valuterò se prenderlo o meno. Io me lo sono fatta spruzzare perché comunque da persona a persona la persistenza cambia. Allora, io avevo la carta dell'erbolario, non sono riusciti a trovare il mio contatto. Me l'hanno rifatta perché non risultavo proprio, mi hanno spiegato che se non vengono effettuati degli acquisti per molto tempo, i dati si perdono. Forse l'ultima volta che avevo acquistato quei prodotti al cocco, mi ero scordata anche di farmi inserire nella carta, non ricordo. Comunque me l'hanno rifatta e quindi inizio nel farvi vedere cosa mi hanno dato per il benvenuto. Allora, all'interno la linea è questa qui, adesso c'è la luce, per te in omaggio, assenzio, bagno gel 50 ml e altri prodotti in formato campione. Adesso lo apriamo insieme e vi mostro cosa c'è all'interno. Allora, come prima cosa troviamo questo bagno doccia, o meglio bagno gel, ci sono 50 ml, sentiamo la profumazione. Non è male, non è una delle mie profumazioni preferite. Comunque ci sono 50 ml, bagno schiuma, taglie così piccole, non è mai abbastanza. All'interno c'è poi, quindi un profumato benvenuto nel nostro giardino e c'è questo folder piccolino dove parla dell'erbolario, da quando è nato, insomma. Poi abbiamo questi altri campioni, li prendo così vi dico. Allora, abbiamo crema viso naturali, colori dell'orto. Poi abbiamo gommage per il viso con bois de panama e olio di crusca di riso. Acido ialuronico, questo mi attira, luce e volume, shampoo effetto filler. Poi abbiamo bucchè d'oro, crema profumata per il corpo, con estratti di giaggiolo, solidago e miele d'acacia. Abbiamo poi della linea papavero suave, crema per il corpo. E poi abbiamo altra crema per il corpo, karité, che è questa qua. Questo è quindi quello che ho trovato nel kit di benvenuto. Poi vi mostro gli altri omaggi che mi ha messo all'interno la ragazza e mi ha messo tutti questi. Non gliele ho chiesti io, è stata molto gentile. Crema viso, la canapa e me ne ha date tre. Poi mi ha dato bagno crema nutriente al karité. E me ne ha dato un altro. Questo lo conosco perché avevo preso tutta la linea, però poi non l'ho utilizzato. L'avevo preso perché mi ricordava il profumo Tiffany, non Tiffany Love, ma Tiffany il classico. Alla lontana. Comunque ancora tutti, ho sia il profumo da borsetta, la crema corpo e mi sa ho uno o due profumi di questa linea qui. Questo è bagno schiuma. Poi mi ha dato, e questo forse è il prodotto che mi attira maggiormente, acido ialuronico contorno occhi a triplazione. Quindi trattamento anti-age. E per finire mi ha dato bagnogel, albero di giada e me ne ha dati due. Ora però vi mostro cosa ho comprato. Allora, quindi questa è la bustina, il pacco che mi ha fatto, e vi mostro cosa c'è all'interno. Allora, la confezione è questa, e all'interno abbiamo, si apre così, e all'interno c'è questo sacchettino dell'erbolario. E vi mostro cosa c'è. Allora, il primo è questo, è rivestito, è uno specchietto, adesso non vi voglio accecare, è anche bello grande. E poi un rossetto. Il rossetto è rossetto effetto seta. Penso che venga fatto solo in questa colorazione qua, che è rossa. Adesso qua ve lo mostro. Che rosso nella mano non è. Non ha profumo. È più un color ciliegia. E vedendolo così mi sembra più un burro di cacao e non un rossetto. Comunque il pack, anche come idea regalo, è molto bello. Quindi, sacchetto, bustina e rossetto. La confezione è molto carina. Il costo era intorno ai 14 euro o 14,90 euro. Stacco un attimo, mi tolgo il mio rossetto e lo proviamo insieme. Allora, ho tolto la tinta e adesso, col mio specchietto, provo il rossetto. Da qui sembra molto più bello. Allora, non è un matt, non è un rossetto che io, senz'altro, avendolo provato, avrei potuto comprare. Però mi rimane lo specchietto, mi rimane la bustina e comunque una bellissima idea regalo. Poi, quando si toglieranno del tutto le mascherine, ecco, non è un colore che sceglierei, ma non è bruttissimo. Mi sembrava più un rossetto matt e molto più coprente. Però, tutto sommato, sono contenta. Niente, allora, il video di oggi termina qua. Se ce la faccio, subito dopo registro il video della giornata di oggi di San Valentino. Niente di particolare, però delle piccole cose. Quindi, magari vi mostro la torta che abbiamo preso non in una pasticceria, ma in un centro commerciale. Ci è piaciuta, sia a me che a mio marito, abbiamo deciso di prenderla. Poi siamo andati a mangiare una pizza tutti e cinque, io, mio marito e i miei figli. Abbiamo iniziato col momento della colazione e nient'altro. Insomma, una giornata semplice, però molto, molto rilassante e bella. Il video di oggi dell'erbolario termina qua. Mi faccio fare, magari, una foto da mia figlia, così vi mostro come ero vestita oggi. Vi mostro solamente in velocità lo zaino. Lo zaino che ho messo oggi è questo di Patrizia Pepe con le perle alternate alle borchie dorate. È uno zaino che ho dal 2017, se non ricordo male. Per essere in ecopelle, incrociamo le dita. È ancora messo bene, non ha nessun difetto, anche perché ci sono molto affezionata. Le scarpe, vi metterò la foto qui, sono quelle di Zara, che riprendono lo zaino, sembrano addirittura uscite dal medesimo negozio. E la cintura, vi metterò la foto qui, che ho utilizzato per bloccare il mio cardigan nero. È quella di motivi che avevo preso, mi sembra, quest'estate a pochissimo. Mi sembra che era scontata del 70% o qualcosa del genere. E vi metterò la foto qua. Vi metto la foto e vi faccio vedere cosa ho messo sopra. Mi faccio fare la foto da mia figlia, perché ho messo la giacca, barra, camicia, quella di unico accessori, quadrettata, bluetta e nera. Per dare un po' di colore, perché sono anche oggi, a parte i jeans total black. E nient'altro. Il video termina qua. Spero, come sempre, di avervi tenuto compagnia. Ancora buon San Valentino a tutti e noi ci vediamo prestissimo con un mio nuovo video. Ciao a tutte e buona serata.